In questa sezione, che sarà completamente dedicata a quello che sono gli oggetti, andremo ad approfondire tutte le proprietà e gli oggetti e ne vedremo alcuni elementi particolari e poi introdurremo quello che è il discorso dei costruttori. Io qua ho segnato parte 6, ma anche se ormai non c'è più un ordine in cui dobbiamo andare a imparare qualcosa, da adesso in poi saranno tutti argomenti di approfondimento, soprattutto comunque teorici, molto molto importanti da comprendere. Che cosa troveremo in questo capitolo? Troveremo prima un ripasso generale di quelli che sono gli oggetti, con le loro proprietà e caratteristiche, in modo che comunque ci possiamo rinfrescare un po' la memoria. E poi entraremo in quello che è uno degli argomenti forse più confusionari di JavaScript, non confusionari, magari è brutto dirlo, confusionari, ma che più ambigui, ecco più ambigui forse è più corretto, che è il disargumento che andremo a vedere nel dettaglio. E poi vedremo come utilizzare questo elemento per andare a definire delle factory e constructor functions, che ci permettono proprio di costruire degli oggetti che condividono delle proprietà, ma poi scenderemo nel dettaglio nelle singole lezioni. E l'ultima parte sarà dedicata a dei metodi avanzati degli oggetti che hanno sempre come soggetto questo disargumento che ci apre la porta a tutta una serie di funzionalità avanzate che possiamo andare a ottenere con gli oggetti. E non solo perché vedremo che in JavaScript tutto è un oggetto, anche il nostro amico Array scopriremo che in realtà è un oggetto. Iniziamo questo nostro ripasso aprendo quello che è la folder objects, che non ha più un numero rispetto agli altri, e entriamo in ripasso generale. E poi abbiamo il nostro file index.js sul quale andremo a lavorare. Chiudiamo la tendina e concentriamoci al 100%. Quindi facendo un veloce recap, un oggetto, altro non è che un tipo di dato che accetta delle chiavi a cui associa quello che è un valore che prende il nome di proprietà, possiamo andare a definire queste chiavi sia in questa maniera sia come stringa qualora volessimo poi avere degli elementi composti che hanno dei simboli strani all'interno della loro definizione, come in questo caso il numero di telefono che presenta questi trattini che non sarebbe possibile utilizzare se non utilizzassimo proprio una stringa. Dopodiché ci viene permesso anche di definire, oltre a delle proprietà che quindi sono delle chiavi con dei valori associati, anche dei metodi che sono semplicemente sì delle chiavi, ma che hanno associato delle funzioni. Quindi in questo caso avremo function e poi andiamo a definire una funzione incredibile che farà console.log e accetterà come parametro quello che è semplicemente un nome. E poi possiamo andare a utilizzarlo. Come si utilizzano e si accede ai valori di un oggetto abbiamo più alternative, quella più semplice comunque è quella di andare ad avere ad esempio Vincenzo.saluto, in questo caso richiamiamo la nostra funzione, passiamo Vincenzo.nome e otterremo in console quello che è il risultato della nostra incredibile funzione, oppure possiamo andare ad accedervi tramite quello che è semplicemente la dot notation, così che abbiamo fatto con saluto possiamo andare a stampare Vincenzo.nome e otterremo il nome del nostro oggetto. Oppure possiamo andare ad utilizzare la bracket notation, ovvero accedere ai valori utilizzando una dicitura che richiede l'utilizzo delle parentesi, quindi possiamo avere console.log di Vincenzo, aprire le parentesi e poi passargli quello che è ad esempio il numero di telefono, questo ci permette di accedere a questi elementi che hanno questo tipo di chiave che è definita come una stringa. Possiamo anche andare a definire quello che è una nuova proprietà su un oggetto, semplicemente andando a fare Vincenzo.animali, dirgli che è un array e sarà un array di oggetti che avrà semplicemente all'interno questi due elementi e se stampassimo a questo punto console.log di Vincenzo, otterremo che Vincenzo adesso ospita anche la voce di animali, che va a posizionarsi in alto perché sono ordinati per ordine alfabetico, non in base a come noi li andiamo a ordinare. Un oggetto può contenere una serie di elementi innestati al suo interno, lo possiamo vedere in questo caso, in cui comunque all'interno di Vincenzo abbiamo parenti che a sua volta è un oggetto che accetta al suo interno genitori, che è un array di oggetti, quindi la complicità di quella che è un oggetto è praticamente infinita. Sta oltre comunque al buon senso anche a quello che effettivamente uno deve comunicare con questo tipo di struttura di dati. La seconda parte del ripasso dei nostri oggetti sarà incentrata su quelli che sono i metodi e alcuni procedimenti e funzionalità con cui possiamo lavorare meglio con i nostri oggetti. Come ci siamo detti sul finire della lezione precedente, il grado di complessità di un oggetto è abbastanza semplice che vada a crescere, questo ne è un esempio abbastanza concreto, nonché semplice, poiché stiamo semplicemente descrivendo una normalissima persona, già nel definire quella che è il rapporto di parentela di questa persona, abbiamo l'utilizzo di un oggetto che accetta all'interno delle chiavi che si associano a degli array di oggetti, quindi sicuramente abbiamo un innesto abbastanza importante degli oggetti. Quindi andare ad accedere a questi parametri diventa comunque abbastanza tedioso, più che difficile. E per risolvere questo problema noi abbiamo già visto che possiamo andare a utilizzare quella che è la decostruzione di un oggetto. Come avviene la decostruzione, andando a definire const, apriamo le parentesi graffe e andiamo a dire che è uguale al nostro Vincenzo. Utilizziamo le parentesi graffe perché stiamo comunicando che stiamo cercando di decostruire un oggetto, poiché si possono anche decostruire altri tipi di dato, come ad esempio gli array. Dopodiché andiamo a inserire all'interno di queste parentesi graffe il nome della chiave che vogliamo estrarre dal nostro oggetto. Quindi decostruiamo in questa maniera il nostro oggetto, quindi ci diamo ad esempio a nome, accediamo ad esempio a parenti, però parenti come abbiamo visto va poi a innestarsi all'interno un altro oggetto. Utilizziamo i due punti, andiamo ad aprire di nuovo le parentesi e iniziamo a decostruire anche l'oggetto di parenti e ci portiamo fuori genitori e sorelle. Magari sorelle vogliamo andarlo a rinominare, utilizziamo i due punti, non apriamo una parentesi graffa e andiamo a scrivere cugine. In questo modo stiamo andati a rinominare quello che è la chiave sorelle chiamandola cugine. Quindi quando uno utilizza i due punti e poi apre le graffe va a indicare che vuole andare a decostruire un oggetto all'interno dell'oggetto che già sta decostruendo. Quando utilizziamo solo i due punti senza rieprire le graffe e stiamo rinominando la chiave. Ok, perché magari abbiamo bisogno di riluminarla. E questa è la decostruzione dell'oggetto. Se poi comunque con solo gassimo console.log nome genitori e cugine otterremo quello che sono i valori dei nostri elementi, quindi vincenzo e poi il nostro array e l'altro array con dentro le cugine. che poi era prima le sorelle. Ma ci eravamo confusi. Come ho detto prima possiamo anche decostruire un array non c'entra niente con gli oggetti però vi faccio vedere anche come si va a fare e cosa cambia. Quindi decostruire array e abbiamo sempre lo stesso tipo di scrittura solo che andiamo a definire quello che è una parentesi quadra, non graffa perché stiamo comunicando che decostruiremo quello che è un array e andiamo a decostruire i nostri genitori. Mentre quando lavoriamo con gli oggetti andiamo a decostruire in base alla chiave quindi dobbiamo passare il nome della chiave quando decostruiamo un array noi andiamo a decostruire in base alla posizione quindi qualsiasi nome noi daremo a questi elementi verranno associati al valore diciamo dell'index corrispondente quindi in questo caso noi abbiamo quello che è un array di oggetti in genitore che stiamo andando a decostruire quindi il primo elemento si porterà dietro ovviamente quello che è il primo oggetto assegnerà il suo valore al primo oggetto e il secondo al secondo oggetto all'interno del nostro array quindi in questo caso andiamo a dire mamma è il secondo e ora se andassimo a console logare i nostri mamma e papà otteniamo quelli che sono i singoli valori quindi questa è la differenza sostanziale nella decostruzione tra oggetti array gli oggetti decostruiscono in base alla chiave gli array in base alla posizione un altro elemento che è molto importante da conoscere e che ci aiuta molto quando lavoriamo con i nostri oggetti è quello a parte delle short circuit evaluation ma anche dell'optional chaining operator andiamo a vedere queste due cose con un nome così difficile effettivamente a che cosa servono per fare un esempio molto semplice immaginiamo comunque di non avere scritto noi questo oggetto che ci arriva da un API e noi non sappiamo all'interno della voce parenti se esista la chiave genitori come sappiamo se noi provassimo ad accedere ad esempio a genitori e la chiave di genitori non esiste quindi apparenti punto genitori e ovviamente genitori non esistesse noi otterremo come risultato undefine quando si a fare così a commentare il valore di genitori e per evitare di rompere tutto commento anche momentaneamente questo questo e anche questo se ne provassimo a console.log console.log vincenzo punto parenti punto genitori noi otterremo come risultato undefine ma se io questo non lo sapessi e fossi convinto che gli elementi comunque presentassero dopo genitori un'altra chiave che si chiama appunto genitori quindi aspettiamo che dai genitori uno possa risultare risalire anche alla generazione precedente se io provassi a fare così ecco che ottengo un bel errore perché ovviamente genitori è undefine e non esiste la proprietà genitore su un elemento di valore undefine come possiamo risolvere questo problema anche perché questo farebbe crashare la nostra applicazione quando non avessimo una gestione dell'errore la soluzione è andare a utilizzare o le short circuit evaluation oppure la cosa più comoda sarà il nostro optional chaining operator vediamo come risolvere questo problema il metodo più macchinoso lo chiamo macchinoso ma diciamo quello che c'è fino a mi sembra node 14 che si utilizzava fino a prima di node 14 perché su un nodo 12 l'opzione con il chaining operator non era riconosciuto e non funzionava era un simbolo che non veniva riconosciuto si usava quella che è la short circuit evaluation per andare a controllare che il valore esistesse quindi abbiamo es e si andava a fare questo lungo lavoro in cui si controllava che vincenzo se vincenzo è true quindi se esiste il suo valore allora prova ad accedere a vincenzo punto parenti se anche questo elemento è true quindi è true più che true allora vai avanti e prova ad accedere a vincenzo punto parenti punto genitori qualora anche questo fosse true allora ridammi vincenzo punto parenti punto genitori punto genitori così so che anche se per caso questa chiave non esistesse io al massimo otterrò undefined e non un errore se ci andiamo a console loggare log e svalu e otteniamo undefined come vedete non otteniamo errore poiché a questo momento il valore smette di essere true si ferma e non va ad accedere al valore successivo questo ci aiuta a prevenire l'errore però come vedete questa scrittura è molto macchinosa e anche ha tante righe di codice l'optional chaining operator ci permette di andare a replicare questa operazione in maniera più compatta quindi utilizziamo is true ad esempio e andiamo a dire che abbiamo vincenzo punto interrogativo punto questo è l'optional chaining operator parenti parenti punto genitori punto genitori andiamo a consologarci il nostro istru salviamo e otteniamo anche in questo caso undefining abbiamo ottenuto lo stesso risultato se noi scontassimo questo elemento come vedete siamo tranquillamente salvi ancora una volta e se noi stessimo cercando di accedere semplicemente fino a quello che è il valore di genitori anche in questo caso possiamo andare a commentiamo questo caso qua andiamo a commentare questo elemento se noi ci fermassimo in questo modo come vedete otteniamo il nostro valore in entrambi i casi quindi replichiamo lo stesso procedimento questo ci garantisce di non cercare mai di accedere una proprietà su un elemento che sia undefined che farebbe crashare la nostra applicazione quindi questo diciamo è un tips molto molto utile ora ci spostiamo nel secondo capitolo proprio di questa sezione andiamo a parlare di quello che è il tips inizieremo un passo alla volta con quelle che sono le basi di questo argomento in questa nostra lezione abbiamo quelli che sono due oggetti che sono Vincenzo e Stefania che hanno semplicemente un nome e un cognome e poi hanno entrambi una proprietà di saluto in questo momento però come vedete noi abbiamo del codice arcodato che vuol dire scritto praticamente in maniera forzata a mano in maniera brutta in cui va a essere scritto manualmente quello che è il valore che deve stampare quindi saluta con il suo nome o la sono Stefania e qua o la sono Vincenzo ovviamente posso risolvere questo problema e renderlo più dinamico andando a passare quello che è qua il nome ma e poi inserire in questa posizione quello che può essere il valore di nome però come vedete c'è qualcosa che non va comunque c'è Stefania punto saluto e poi devo di nuovo passarli il nome di Stefania cioè non è proprio il saluto che farebbe Stefania no cioè non è il modo più furbo di rappresentarlo c'è qualcosa che evidentemente non quadra poi ovviamente funziona però c'è qualcosa che potrebbe essere fatto meglio ed è qua che entra in gioco quello che è l'argomento di this e a che cosa ci serve this ci permette di accedere quelle che sono le proprietà dell'oggetto che lo va a richiamare ok in che senso andiamolo subito a vedere all'opera quindi ciao sono this punto nome spazio punto cognome andiamo a copiare questa funzione tranquillamente la possiamo inserire in questa posizione e del nome non ce ne facciamo più niente andiamo a salvare e proviamo a chiamare vincenzo punto saluto senza passare a nessun argomento e come vedete otteniamo hola sono vincenzo rabbia se chiamassimo dice che vincenzo chiamassimo saluto scusatemi stefania stefania e andassimo a salvare otteniamo sono stefania mollica e questo cosa vuol dire che questo elemento ci permette di accedere ai valori rispetto all'elemento dal quale viene richiamato una regola molto semplice per capire a cosa faccia riferimento e che fa riferimento alle proprietà dell'elemento rispetto al quale viene richiamato quindi a sinistra del punto ok rispetto al quale viene richiamato che non è dove viene definito ma chi lo chiama che definisce quali proprietà questo dis potrà andare a utilizzare se stefania accedesse nuovo ad esempio a nome in questo caso potremmo dire hola nome sono e poi quello che va a stampare quindi marco marco e in questo modo andiamo a comporre la nostra funzione che come vedete è molto più uno sensata perché comunque se è una funzione proprio di stefania allora deve andare a accedere le sue proprietà senza che uno debba poi passare dire manualmente non è che avrebbe così tanto senso e sono funzioni che come vedete sono replicabili ripartiamo da dove ci siamo lasciati in questa nuova lezione e andiamo un po' a dare delle spiegazioni su effettivamente questo dispero che cosa sia qual è il suo valore e per fare questo andiamo a definire una funzione che chiameremo work with this che semplicemente farà una cosa molto semplice che sarà fare console dot log di this andiamo a chiamare questa nostra funzione work with this e vediamo in console cosa otteniamo commento magari questi due saluti che non ci servono ecco vedete otteniamo il nostro oggetto window quindi questo cosa vuol dire che sia da qua ritornasse quello che è this e andassi a console dot logare se work with this sia uguale o uguale a window otterrei il valore di true e questo cosa ci ci suggerisce che this fa riferimento all'elemento rispetto al quale viene richiamato rispetto diciamo a quello che c'è a sinistra del punto della funzione che lo va a chiamare come noi sappiamo e ci ricordiamo molto bene quando javascript va a eseguire delle singole funzioni quello che fa è controllare se in questa funzione ci sia un riferimento particolare a questo elemento se non c'è nessun riferimento va a cercare sul window object se questo elemento esista e ovviamente questo elemento esiste sul window object praticamente dice su tutti quelli che sono gli oggetti ok quindi questo è molto importante di default il nostro elemento dis punta e fa riferimento all'oggetto window e in questo caso lo abbiamo dimostrato e cosa possiamo fare per dimostrarlo ancora di più andrà a dire che dis dot r sia uguale a 56 se adesso io andassi a consologare un soldo log quindi punto r come vedete ottengo 56 perché sono andato a definire una nuova proprietà come ho visto che si può fare tranquillamente quell'oggetto e se qua scrivessi stefania punto r uguale 56 ma deve finire la proprietà r sull'oggetto stefania in questo modo sono andato a definire una nuova proprietà sull'oggetto window so che è confusionario ma vi fa capire quanto sia potente questo dis e quanto utilizzarlo correttamente è molto molto importante per andare a fare un altro esempio molto molto semplice io qua ho questo nostro bottone e se io andassi a troviamo un attimo questo commento d'acqua c'è commentiamo attimo questo r potremmo andefine qui perché non esiste più la proprietà r sull'oggetto window e andiamo a a targhetti zarci il nostro bottone quindi btm uguale document cost document dot get element by id e utilizziamo come di btm che lei di chiudato a questo bottone nel nostro file html e andiamo a fare l'atto ad event listener e li passiamo al clic la nostra funzione work with this quindi al clic vediamo che cosa stampa questa funzione quindi ricordiamoci che va a fare riferimento a quello che l'elemento rispetto al quale viene chiamato ok quindi a sinistra il punto di chi va a chiamare in maniera brutta e quindi secondo voi che cosa stamperà quando la premere su questo bottone stamperà il nostro bottone perché l'elemento che va a richiamare questo nostro elemento di e il nostro bottone e noi da qua potremo lavorare completamente con tutte le proprietà del nostro quindi se io andassi a stampare ad esempio console dot log di dis che fa riferimento al nostro bottone in questo momento punto in text come vedete quando prenderò lui mi stampa il mio bellissimo clic ok questo è quanto sia versatile il nostro elemento di questo ci fa capire quanto sia versati di questo elemento è tanto versatile quanto strano perché se io qua ad esempio andasse definire quella che è una funzione normale che va a chiamare la nostra funzione work with this portiamo su e andiamo a invocare la nostra funzione andiamo a salvare come vedete quando andiamo a prendere adesso otterremo oltre che ande find otterremo di nuovo il nostro window object perché in questo momento non è più non sta venendo chiamato dal nostro btn ma da una funzione che poi va a chiamare la nostra work with this è strano lo so ma funziona esattamente così e di tutta questa pardella noi effettivamente che cosa ce ne facciamo e ce ne facciamo che però se ci pensiamo bene la sua stranezza però si rivela essere molto utile perché andare a scrivere due volte questa funzione non posso semplicemente definire una funzione che andiamo a chiamare saluto che al suo interno altro non fa che fare questa roba qua e poi vado a dire che saluto uguale a saluto saluto vado a salvare e se adesso sbloccassimo i nostri saluti come vedete otteniamo nuovamente lo stesso risultato e se dovessimo andare a cambiare nostra funzione per qualsiasi motivo quindi adesso accetta un parametro che non saluta più con ola e dice ciao lo andiamo a fare in un unico posto e otteniamo una buona versatilità dei nostri oggetti si definisse un altro oggetto chiamiamo pierpaolo anche per paolo avrà lo stesso metodo di saluto ok questo lo so che non è facile andare ad afferrare al primo colpo perché sembra fatto volutamente per essere più confusione lo possibile ma questo elemento in realtà da una grande versatilità a quello che è il nostro codice per andare un po collegare quelli che sono tutti i punti che abbiamo visto fino ad adesso del dis e vederne poi un effetto abbastanza concreto di quello che il suo utilizzo andiamo a parlare di quelle che sono le factory function che cosa ci aiutano a risolvere quale problema andiamo a risolvere con queste factory function e come vedete questi nostri oggetti sono praticamente uguali che io poi vado a creare una funzione esterna e la vada ad assegnare però comunque ho una ripetizione effettivamente di quello che sto andando a realizzare un metodo uguale che vanno ridefiniti che vanno appunto le vanno assegnati dei valori e che comunque hanno lo stesso tipo di modello perché allora non andare a sviluppare quella che è una funzione che proprio lo scopo di creare questi oggetti visto che comunque ci siamo resi conto che il nostro argomento dis va ad assumere e ci permette di accedere alle proprietà dell'oggetto sul quale viene richiamato quindi alla sinistra del punto rispetto al quale viene richiamato e allora non abbiamo bisogno di andare a definire tutte le volte questa funzione ci basta fare questa operazione una volta sola e come otteniamo questo risultato ben tanto andiamo a commentare i nostri oggetti così ci rimangono qua e andiamo a creare una funzione che chiameremo function create person ok che accetterà un nome un cognome e quello che farà sarà a ritornare un oggetto che avrà nome nome cognome cognome e saluto che sarà uguale a una funzione facciamo così che facciamo prima a una funzione che abbiamo già visto mille volte scommentiamo e questa è la nostra funzione dopodiché cosa facciamo andiamo a dire che stefania 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 sia uguale a create person di stefania mollica mentre vincenzo cost vincenzo è uguale a create person vincenzo vincenzo rabbia nessun punto invece con virgola e come vedete ottengo tranquillamente di nuovo il mio risultato solo che ora se andiamo a cancellare questo che non ci serve più possiamo vedere quanto sia più ordinato e anche comunque più semplice di andare a utilizzare ovviamente in questo caso sembra non avere senso ma se io comunque immaginassi che questa cosa che stiamo realizzando ci serve a identificare quello che ad esempio tutti i dipendenti dell'azienda noi avremmo create dipendente ad esempio e tutti gli elementi che poi prendono nome di istanze un'istanza è un oggetto che viene creato a partire da una factory function quindi da un fabbricatore di oggetti detto in maniera molto molto speech così chiamano istanze tutte questi eventi condividerebbero le stesse funzioni se saluto avessi non lo so pagamento tutta serie di funzioni che possa andare a assegnare automaticamente ai miei oggetti che sono condivisi e possono andare a modificare il unico punto ok questa è l'utilizzo che possiamo andare a fare ad esempio uno dei tantissimi utilizzi che possiamo andare a fare del nostro dis per iniziare a creare questi oggetti in massa ecco avere un modo furbo unico per andare a creare tutta una serie di elementi dopo le factory function andiamo a vedere quelle che sono le constructor function quella che è la differenza tra una factory e una constructor function e che effettivamente andare utilizzare un costruttore poi dopo ci permette di andare ad avere come se fosse un tipo di dato personalizzato nostro customizzato mentre comunque un great person di default è un oggetto quindi poi comunque ha tutti i metodi e le proprietà che effettivamente ha un oggetto un tipo di dato oggetto invece il costruttore ci serve a creare un po quello che è il nostro tipo di dato personalizzato come quando ci sono le stringhe gli array le funzioni che sono dei tipi di dati le constructor function ci permettono di creare dei tipi di dato completamente nostri e questo come avviene andiamo a commentare quello che è quindi la factory function e andiamo a costruire replicare quello che è la constructor function che rappresenta questa stessa factory function si definisce function per convenzione si usa la lettera maiuscola quindi person in questo caso perché creeremo una persona gli si dà assolutamente effettivamente il nome del tipo no di oggetto che andiamo a definire quindi perso nel caso di una persona account nel caso comunque uno dovesse creare un account insomma deve essere abbastanza descrittivo queste sono convenzioni non sono regole dopodiché gli passiamo i parametri che deve andare ad accettare diciamo nome va nome cognome si aprono le parentesi e si va a dire che dis tot nome è uguale a quello che è il valore di nome facciamo che commettiamo surname e poi diciamo che dis dot cognome sia uguale a surname e che dis dot saluto sia uguale a function e poi il solito è incredibile console.log questa volta dove diciamo che il nome ciao la sono nome e amo react js dopodiché andiamo a creare queste nostre nuove istanze quindi dire che const vincenzo è uguale a new che è una parola chiave che adesso andremo a vedere nel dettaglio person e poi passiamo vincenzo rabbia andiamo a salvare e andiamo a console tot logare quello che è il valore di vincenzo e partiamo dall'analisi di questo elemento intanto vediamo che effettivamente ci viene definito che vincenzo come tipo di dato effettivamente è un tipo di person quindi abbiamo creato il nostro dato costumizzato quindi e person che ha come valori cognome rabbia come abbiamo assegnato e nome vincenzo quindi quello che noi andiamo a fare come ho visto dice ci permette di andare a comportarsi come se proprio fosse un oggetto quindi stiamo assegnando alla proprietà nome il valore del parametro che passiamo a nome e alla proprietà cognome con la chiave cognome e andiamo ad associare il valore di quello che il parametro che passiamo come surname e poi avrà di default questa nostra istanza il valore di saluto che questa nostra funzione che va a printare il nome e scrive cose a mozzo ma come abbiamo visto quando noi utilizziamo il disco questo viene appunto contestualizzato rispetto a dove viene invocato questo e da quello che abbiamo spiegato fino ad adesso fosse così questo di si dovrebbe puntare effettivamente a quello che windows object non andare a creare questo nuovo oggetto e permetterci poi di utilizzare anche i suoi metodi perché se io facessi comunque vincenzo punto saluto come vedete tutto comunque funziona e va a printare quello che effettivamente è il metodo di vincenzo dis è in grado di accedere a quello che è vincenzo ma come fa effettivamente come avviene questo passaggio di non contestualizzare questo dis in particolare al window oggetti perché la parola chiave new va a fare principalmente tre attività crea questo nuovo oggetto che noi stiamo andando a cercare di creare che stiamo cercando di assegnare alla nostra costante vincenzo fa in modo che il dis punti all'oggetto che viene creato e non più a window al window oggetti dopodiché come ultima cosa va a ritornare il nostro oggetto perché rispetto alla nostra faccola rifancio come vedete la nostra funzione che fa esattamente la stessa identica cosa noi abbiamo return e poi ritorniamo l'oggetto in questo caso l'oggetto lo andiamo a creare utilizzando questo valore di dis ok dopodiché però non avevo nessun retorno ecco il mio ci permette di non aver bisogno di utilizzare il retorno e di questo ci rendiamo conto che senza non funzionerebbe perché si avessi cost sandro uguale solo person senza il mio avessimo sandro petruzzi e andassi a consologare il nostro sandro sandrone sandro come vedete ottengo andefine perché se non utilizzo la parola new non posso permettermi di omettere il ritorno da questa che altro non è che una funzione ok noi andiamo in effettivamente a riconoscerla come costruttore ma per il motivo convenzionale appunto di utilizzare la lettera maiuscola non succede niente di più niente di meno è una convenzione non è un qualcosa che succede veramente dietro le quinte queste problemi ci permette di andare a creare questi tipi di dato in questa maniera mentre posso creare infinite istanze quindi posso andare ad avere che anche la nostra mitica stefania comunque non ci abbandoni anche questa volta stefania mollica e andare a fare stefania punto saluto andiamo a salvare e come vedete anche stefania ha il suo metodo questa è la principale differenza adesso andremo ad approfondire il discorso del costruttore e quello che il suo utilizzo però la differenza sostanziale che quando andiamo poi a stampare effettivamente quello che è vincenzo o comunque quella che effettivamente un'istanza che andiamo a costruire a partire da una constructor function ci rendiamo conto che il tipo di dato che noi abbiamo e di tipo person non è più di tipo obgezione qua andassimo a creare un marco costa sono poi sembra che cambia le cose perché metto letto const const marco che è una create person di marco galletto e poi con solo gasimo marco vedete che il nostro oggetto è meramente un semplice oggetto mentre ciò che noi estraiamo dal nostro construct or function la nostra concerto function e di tipo person e questo poi ci permetterà di andare a lavorare in maniera differente con i nostri rispetto alle factory function andiamo a vedere nel dettaglio effettivamente quello che il vantaggio di utilizzare una constructor function e poi tutti i metodi che ci mette a disposizione iniziamo un po comunque a fare un discorso approfondito su questa tematica quello di cui parleremo questa lezione è proprio la constructor property che cosa vuol dire beh come abbiamo visto se andassimo a creare quello che è il nostro amico vincenzo quindi person vincenzo rabbia e poi lo andassimo a console dot locale otterremo quello che è effettivamente un elemento un tipo di dato di tipo person ed è molto utile tante volte andare a capire effettivamente da che cosa un elemento sia stato creato e questo ci viene permesso da quella che è la proprietà con con strato ok andiamo a salvare e comete otteniamo proprio come retorne e l'intera funzione che va a creare questo nostro oggetto e noi questa informazione che cosa ce ne facciamo beh se effettivamente stiamo noi creando un tipo di dato personalizzato questo dire che effettivamente under the hood comunque dietro le quinte vuol dire che tutti i tipi di dato alla base hanno quello che è un costruttore andiamoci a dimostrare questa nostra teoria quindi se andassimo ad esempio a fare costo bj uguale un oggetto vuoto andiamo a console dot locale quello che è obj di con stato andiamo a salvare e come vedete otteniamo il return di quello che è il costruttore degli oggetti che ovviamente non è una funzione che abbiamo definito noi ma è una funzione nativa di javascript e questo si ripete effettivamente anche con quello che può essere un array quindi avremo un array uguale un array vuoto e andiamo a consologare quello che è il costruttore dell'array e come vediamo otteniamo quello che effettivamente è un array come costruttore anche la funzione function test che effettivamente non fa nulla di nulla effettivamente se poi andassimo a consologarci quello che è test dot costruttore vediamo che abbiamo come costruttore una funzione quindi effettivamente tutti i tipi di dato no hanno un costruttore e quindi noi cosa stiamo facendo quando andiamo a utilizzare una constructor function stiamo andando proprio a creare un tipo di dato come poi gli array hanno tutta una serie di metodi che possiamo utilizzare su tutti gli array così come gli oggetti hanno le proprietà come funziona delle proprietà ancora possiamo andare a replicare questo comportamento o qualcosa che possiamo andare a fare visto che da quello che possiamo intuire quello che noi stiamo ritornando è una funzione c'è se noi comunque andassimo vedere quello che è il type of off di questo elemento che stiamo ritornando noi ci rendiamo conto che è una funzione quindi questo che cosa ci porta a fare in maniera molto indirette posso dire che stefania ad esempio sia uguale a new vincenzo punto construttore e poi gli passiamo quello che effettivamente è stefania stefania mollica andiamo a salvare e andiamo magari anche a provare a fare stefania dot saluto andiamo a salvare e otteniamo quello che effettivamente quello che ci aspetteremo di ritornare se avessimo utilizzato il costo 3 quindi abbiamo costruito nuova istanza in questa maniera e questo dire che noi volendo possiamo andare a prendere ad esempio quello che è il costruttore del nostro oggetto e dire che effettivamente il nostro oggetto 2 cost obj 2 si è uguale a new oggetto e se andassimo effettivamente a consologare quello che obj 2 ecco che otteniamo quello che è un oggetto vuoto e da queste lezioni quindi cosa dobbiamo portarci a casa ci portiamo a casa il fatto che quando noi andiamo a fare azioni che ci sembrano molto semplici come semplicemente scrivere cost obj e assegnare un oggetto vuoto oppure un array vuoto in realtà sotto c'è tutta una logica di questo tipo quindi c'è una constructor function e poi tutta una serie di argomenti che andremo a vedere nelle prossime lezioni questo è molto importante da capire perché poi per andare a fare il confronto con altri linguaggio comunque anche solo per spostarsi in direzione magari lato server piuttosto che lavorare veramente sul front end questi concetti diventano comunque molto molto importanti da andare utilizzare capite che essere in grado di creare dei tipi di dato personalizzati in base alle nostre esigenze è qualcosa di molto molto importante continuando il nostro discorso sul costruttore sul costruttore andiamo alla regola di prototype che cos'è effettivamente il proprio anzi prima di quello che è il problema che possiamo andare a risolvere mettiamo caso di avere la nostra funzione function account di essere semplicemente una banca e la nostra funzione a quello che è lo scopo molto banale di andare a prendere il nome e la balance ok è quello che andiamo a fare e permettere di creare quello che è eventualmente un cliente no quindi che si apre un conto corrente quindi il nome uguale e poi abbiamo dis dot balance uguale effettivamente a quella che è la nostra balance dopodiché avremo due metodi che sono dis dot deposit che in maniera molto semplice va a definire una funzione che accetta una mount e poi va a dire che dis dot balance più uguale a mountain aggiungiamo la mount fa niente di più niente di meno e poi abbiamo dis dot show credit che permette utenti vedere il credito che ha quindi a console dot blog uguale a dis dot nome dis dot balance ok siamo i dollarini e andiamo a crearci veloci velocissimamente due istanze che saranno sarà e bob e andiamo a con solo carci quelli che effettivamente sono sarà e bomba e sarà andiamo a salvare console dot log sarebbe bello questa virgola sto facendo un legione lo scusatemi ok e come detto abbiamo due account della nostra banca e su questo account ne abbiamo giustamente la nostra balance la funzione di deposito è effettivamente quello che è il nome e la funzione di credito per noi purtroppo ci stiamo ripetendo e ognuna di queste istanze come vedete ha attaccato quello che effettivamente è una funzione quindi inizializza una funzione su quello che l'oggetto che va a creare fino a quando giochiamo abbiamo due persone che noi andiamo a creare che hanno semplicemente le funzioncine questo sembra non essere un problema ma fossimo veramente una banca stessimo sviluppando qualcosa per la banca e avesse anche solo 10.000 clienti capite che avremo questa inizializzazione su 10.000 elementi cosa che ovviamente nella città che ci stiamo fortemente ripetendo e stiamo andando a riempire il codice effettivamente di elementi inutili perché entrambi hanno lo stesso metodo e non ha senso che venga inizializzato tutte le volte su tutti i singoli oggetti che andiamo a creare quindi ne abbiamo bisogno di un modo in cui far sì che questi elementi possano condividere le loro proprietà e come possiamo fare questo invece di avere queste funzioni che vengono create in questo modo noi andiamo a dire che account dot prototype dot deposit uguale esattamente questa funzione è uguale a questa funzione diciamo che account dot prototype dot show credit sia uguale esattamente a questa funzione perfetto e ci aggiungiamo anche che account dot prototype dot bank il nome della banca e la banzo bank eliminiamo questi elementi salviamo e adesso i nostri account come vedete hanno solo più quello che effettivamente sono informazioni dell'utente ma in questa voce prototype si portano dietro degli elementi che sono il nome della banca la funzione deposito e di credito e quindi questo prodotto che cos'è il prodotto type ci permette di definire dei metodi che vengono ereditati da tutte le istanze che andiamo a creare a partire da un particolare costruttore e questa cosa ci deve fare questo ci aiuta a non dover inizializzare tutte le volte su tutte le istanze che andiamo a creare delle funzioni che effettivamente sono in comune a tutti gli eventi perché poi anche bobo come vedete ha solo la proprietà di nome e balance e poi a nessun solo il suo pronto type questi elementi che andiamo a inizializzare solo una volta e questo ci permette già un po di iniziare a capire tutti quei bei metodini che andiamo a utilizzare sul nostro array come il for each il map il filter che anche loro stanno all'interno del prototipo nel prototipo dell'array sono presenti esattamente questi metodi e se adesso andassi a provare a far depositare a sarà quindi sarà dot deposit come vedete le funzioni vengono riconosciute anche dall'inter andiamo a depositare 500 500 e poi andiamo a depositare anche 1000 10.000 perché sarà un sacco andiamo a salvare e come vedete adesso la balance di sarà è cresciuta notevolmente se andassimo a fare sarà dot show credit andiamo a salvare e come vedete otteniamo tutti otteniamo vediamo tutti i soldi che che a sarà se stiamo a cercare di capire quella che è la banca di bomba quindi bob console dot log vasta settore dot log di bob bob punto bank ma come vedete otteniamo che ha un conto presso la manzo bank ecco quello che è l'utilità effettiva del prototype e anche qua andiamo a vedere come appunto la creazione di questi oggetti personalizzati quindi di questi tipi di dati personalizzati scusatemi non degli oggetti andandone poi a scoprire i metodi all'interno ne capite comunque quella che effettivamente è sempre di più la potenza e anche qua ci permette di capire come effettivamente internamente javascript funzioni quando andiamo a lavorare con i nostri tipi di dato dove sono i metodi della re da dove arrivano perché gli array al metro del for each perché invece l'oggetto nel metro del for each perché gli stringa in quei metodi perché i numerici per hanno quei metodi questo ci sta chiarendo quella che effettivamente la situazione dietro le commenti di javascript andiamo a parlare ora di quello che è il look up come ne avevamo descritto quando parliamo del global scope local scope anche comunque per quello che è un costruttore vale quello che è il lucapo vero dove javascript va a guardare per pescare effettivamente il valore o la proprietà che stiamo cercando di mostrare per fare un esempio molto semplice proviamo a inserire effettivamente quello che è un valore di bank name quindi this dot bank che sarà la sandro bank la sandro bank andiamo a vedere quella che è la banca di sarà salvare e come vedete diventa la sandro bank questo perché perché la prima cosa che va a fare javascript e andare a vedere consigliamo anche sarà così diventa sicuramente più chiaro solo che sarà quello che fa javascript e che va prima a controllare che nell'istanza di sarà che noi andiamo a creare non sia presente quello che è la chiave bank nel caso appunto non fosse presente allora va a cercare all'interno del prototype e va a vedere se nel prototype di questo tipo di dato sia presente questa proprietà nel caso ovviamente non sia presente né nel prototype e quantomeno nell'istanza dell'oggetto otterremo quello che è andefa non andrà a cercarlo comunque da altre parti un'altra cosa molto interessante che volevo farvi notare e che si sente spesso dire in javascript che tutto è un oggetto ma questo cosa vuol dire beh se andassimo con solo gare quello che sia un oggetto vuoto che un array vuoto andiamo da con solo gare e vediamo fatemi togliere questo bank name quaker ma non ci serve più e anche insieme al nostro oggetto non sei stanza sarà se andassimo a vedere in quello che è l'oggetto come vedete che in questo caso è vuoto abbiamo un prototype object ok quindi abbiamo il porto type che riguarda l'oggetto con tutte le sue proprietà e metodi che condivide se andassimo nell'array noi vediamo che abbiamo come unica proprietà length che è la lunghezza che ha l'array dopo di che abbiamo un prototype che ha tutti i metodi che abbiamo visto negli array quindi filter for each index of joy in chi può push reduce essere nel fondo però abbiamo un altro prototipo ovvero oggetto che quindi che condivide le stesse proprietà di quello che effettivamente è il costruttore del oggetto infatti il costruttore di questo elemento è un oggetto quindi anche gli array effettivamente altro non sono che degli oggetti e anche la nostra istanza come vedete quando andiamo nel prototype andiamo a vedere che comunque ha un prototype oggetto di cui il costruttore comunque è account e di tipo account ma dopo di che abbiamo come prototipo di nuovo tutte le proprietà dell'oggetto che questa è una cosa molto importante che però noi stiamo sempre avendo a che fare con degli oggetti costruiamo continuamente gli oggetti poiché siano dei tipi di dato differente cosa vuol dire in realtà che siano dei tipi di dato differente che hanno dei prototype differenti cioè il prototype di una stringa non è lo stesso prototype di un array quindi hanno condividono questi tipi di dati effettivamente delle proprietà diverse quindi non è che uno non può chiamare su un array il metodo char et che serve su una stringa per ottenere un carattere a una determinata posizione non è che non lo puoi fare e che nel prototype dell'array questo non c'è uno volendo può aggiungere sul prototipo di un array un qualsiasi metodo pubblici si andasse a dire che array dot prototype dot gianni sia uguale a su function quello che fa console dot log di gianni e si vado a dire che consta prova sia uguale a questo e poi faccio prova dot gianni e vado a salvare come vedete ottengo console log di gianni ok e se andassi a vedere con solo dot log di prova ok e vado nel suo proprio type c'è un metodo che si chiama gianni quindi ho aggiunto un metodo su prototipo creasse un altro array potrei utilizzare questo metodo gianni che sono andato a creare posso andare a lavorare anche questa maniera quindi noi siamo molto flessibili cioè io voglio che voi capite che non sono cose strane nascoste ce ne possiamo intervenire su tutto quanto in javascript come ovviamente sviluppatori abbiamo la possibilità di creare interviste col prototipo creare degli elementi cioè noi possiamo creare dei metodi custom che ci possono servire su un tipo di dato come utilizziamo continuamente questo deve essere deve passare in maniera molto chiara e siamo ora all'ultima lezione di questa sezione del nostro capitolo soggetti dopo di che poi passeremo a i metodi e ora parleremo di quella che è la classe syntax diciamo che tra le tante introduzioni che sono state fatte con quella che è stata la major release di javascript in six nel 2015 sono state introdotte tante funzionalità all'interno di quella che è l'ecosistema di javascript come ad esempio le arrofa sono una delle altre introduzioni di questa di questa major release così come tante altre cose che ne abbiamo utilizzato che prima comunque non non esistevano una delle tante integrazioni che è stata fatta se non secondo me la più importante è stata la sintassi delle classi in tanti altri linguaggi quelli che noi abbiamo visto adesso come comunque costruttori constructor function altro non sono che delle classi oppure comunque le pensioni di alcuni model è quello che andremo a vedere e come questa sintassi ci permette di esprimere esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto prima con il nostro account sapete che adesso comunque è predominante quella che è la classe syntax rispetto a quella della constructor syntax però quella che è stata vista come sintassi dei costruttori tutta la parte del costruttore era per darvi veramente l'inferitura molto decisa su quelle che sono le fondamenti di quello che accade dietro le quinte quando lavoriamo con se tipi di dato che ho fatto in questo punto perché mi sembrava che vi fosse già necessario aver lavorato lavorare già con gli elementi aver fatto già dei progetti c'è comunque avere già comunque un knowledge una nuova è già abbastanza ampia di quello che sia l'ecosistema di javascript ma ora andiamo a lavorare con le nostre classi quello che ci permette di definire una classe e la parola riservata classe dopodiché così come quando andavamo a costruire nostre constructor function lettera maiuscola e dopodiché però quando andiamo ad aprire le parentesi graffe se noi andassimo dire che il costo gianni ormai cielo con gianni sia uguale a account se andassimo con solo carla otterremo quello che effettivamente è un tipo di account completamente vuoto quindi vedete che siamo andati effettivamente già riprodurre in questa maniera quello che è la creazione di un istante quindi per la creazione dell'istanza funziona esattamente nella stessa maniera ciò che è cambiato che invece di accettare i parametri in questo punto come andava a fare la funzione costruttrice con la costruttura function dobbiamo utilizzare un metodo particolare che si è proprio constructor e andare a definire quali elementi accetterà quindi nome balance parla che non esiste balance e poi all'interno di questo metodo costruttura andiamo a definire che dis dot nome sia uguale a nome e che dis dot balance sia uguale a balance quindi qua praticamente stiamo facendo la stessa cosa di prima solo utilizzando dei metodi particolari dopodiché fuori dal nostro costruttore andiamo a interagire con il nostro prototipo diciamo che bank nemmessi sia uguale a manzo bank andiamo a dire che il deposit che accetta amount sia dis dot balance più più uguale mont andiamo a dire che show credit show credit sia una funzione appunto che va a console logare quello che è dis dot nome a dis dot balance con il simbolo del dollarino andiamo a salvare ora vediamo gianni ho messo il punto di log vediamo gianni che cosa è diventato al momento niente perché ovviamente come vedete nome è undefined e anche balance perché non siamo passati niente all'interno di account però nel nostro prototipo iniziamo già ad avere quello che effettivamente sono i metodi deposito e show credit andiamo quindi a passare a new account quello che è già anni e come balance a 888 andiamo a salvare e ora gianni inizia ad avere quello che effettivamente è il suo elemento balance se lo facciamo andare a depositare diciamo che gianni dot deposit diamo numero a caso e poi mostriamo gianni dot show credit ecco vedete otteniamo questo risultato quindi siamo andati a ricostruire quello che era l'elemento precedentemente definito quindi fatto con la construct of function ma utilizzando la nuova sintassi che si che è stata integrata con la list di 6 quindi la classe sintax che vedete va a mantenere tutto un pochino effettivamente più compatto e anche più semplice da andare a leggere passiamo ora alla terza sezione di questo capitolo sugli oggetti quindi entriamo nella folder methods il primo metodo che vedremo sarà il metodo col diamo un po di contesto a questi metodi non sono dei metodi proprio degli oggetti ma sono dei metodi che vanno utilizzati per lavorare meglio con il dis argomenti perché comunque il discorso del factory function delle constructor functions e poi delle classi ha preso vita ha preso forma poi da quello che è tutto il discorso del dis e adesso impareremo a utilizzare sfruttare meglio il dis facciamo un esempio molto semplice mettiamo caso che noi stessimo andando comunque a definire questi due oggetti daniel e lucia è un certo punto daniel avesse un metodo che è il classico metodo di saluto che abbiamo utilizzato fino adesso che va in maniera molto semplice a essere questo che incollerò che magari ci mettiamo anche la c console dot log quindi al momento danni il punto saluto come già sappiamo va a consologare quello che è il valore di daniel ovvero che si chiama da 21 anni ma se io volessi utilizzare questo metodo che è presente sull'oggetto di daniel su quello che è l'oggetto di cia senza andarlo comunque a ridefinire all'interno dell'oggetto lucia che soluzioneerei sicuramente la prima è quella proprio di ridefinire il metodo su luciva però come ne sappiamo questo va contro il postulato dry ovvero di uno a trip it yourself quindi cerchiamo di non scrivere più volte lo stesso codice potrei creare una reference function quindi andare a dire che const saluto sia uguale a daniel dot saluto e poi dire che lucia lucia dot saluto sia uguale a scritto salute saluto sia uguale a saluto a questo punto vado a chiamare lucia punto saluto e come vedete ottengo la sua lucia e ho 26 anni quindi questo metodo funziona funzionante però capite che in questo caso se abbiamo due oggettini perché stiamo di nuovo giocando con la ne avessimo anche solo già 15 dovremmo fare esattamente questo passaggio per tutti e quindi soggetti quindi anche qua andremo a ripeterci e sarebbe al di fuori che comunque una ripetizione manca una sbatta ed ecco che il metodo col che la terza opzione ci arriva in soccorso prima di andarlo a vedere su daniel andiamo a vedere effettivamente quello che è la sottilità perché ovviamente ne che funziona solo sugli oggetti adesso qua sto generalizzando però in generale ha uno scopo molto interessante per quello di andare a ricontestualizzare permetterci di ricontestualizzare a che cosa faccia riferimento il dis quindi andiamo a definire la nostra funzione saluto qui sotto in modo che faccia esattamente questa roba quindi andiamo a scrivere function al volo ci passiamo saluto togliamo questa virgola e abbiamo una funzione di tipo saluto che se adesso come ci ricordiamo molto bene io chiamassi come vedete il dis va a puntare a window e quindi abbiamo sono andefine andefine anni quindi questo ovviamente non deve succedere facciamo che con solo diamo anche dis così vediamo a cosa questo punti mentre noi andiamo a utilizzare il nostro metodo quindi con solo che se andiamo a salvare come vedete punta a quello che è l'oggetto window ecco che utilizzare il metodo col ci permette di risolvere questo problema perché se facessi saluto punto col e questo metodo accetta come primo parametro l'elemento al quale io voglia che faccia riferimento il dis quando questa funzione viene chiamata e col chiama questa funzione istantaneamente quindi ogni passo lucia ad esempio e come vedete io adesso ho come dis proprio lucia e poi ho chiamato il metodo su lucia questo ovviamente vuol dire che posso chiamarlo anche su daniel e vuol dire anche io posso andare a chiamarlo su qualcosa che semplicemente sia nome mario 45 andiamo a salvare e come vedete ottengo lo stesso risultato come detto stiamo generalizzando questo si può utilizzare su tutti gli elementi quindi potrei andare a dire che ho daniel dot saluto dot col e passare quella che è semplicemente lucia vado a salvare e come vedete ottengo lo stesso risultato quindi il metodo col va a chiamare istantaneamente una funzione permettendoci di ricalibrare quello che è il contesto al quale il dis faccia riferimento un altro metodo che andiamo a vedere adesso e apply che praticamente è molto molto simile a col se non quasi identico solo che si differenzia quello che è il secondo parametro che si può passare a questi elementi perché ovviamente magari questa funzione saluto vorrei che avesse dei parametri quindi prende job ad esempio e poi va a prendere anche la città quindi la riscriviamo in questa maniera questo testo ed adesso ci sarà questa versione quindi saluta dice come si chiama quanti anni a e dice che lavoro fa e in che città e quindi io voglio andare a passare dei parametri a questa mia funzione è il primo parametro di col e il contesto rispetto al quale andremo a far puntare il nostro vis dopodiché col va a prendere una lista di elementi non un array molto attenti quindi una lista di elementi quindi il primo esempio designer e il secondo e torino quindi designer sarà il parametro che farà riferimento job e torino invece niente sarà siti quindi se adesso io vado a salvare scommettiamo commentiamo questo non serve niente vado a salvare e come vedete ottengo in questo caso che diciamo solo c'è lavoro come designer a torino ottengo andefine andefine perché questi elementi sono andefine quindi qua posso andare a mente copiare questa roba mentre apply differisce da col semplicemente per il fatto che questo secondo parametro non è dato da una lista di elementi ma da un array di elementi quindi avremo saluto dot apply e poteranno passarli ad esempio lucida e poi un array di parametri quindi passeremo nuovamente questo elemento in questo caso come vedete ottengo il risultato facciamo che non solo con lucia così non diventiamo matti con questi log e ottengo esattamente lo stesso risultato voi direte a che serve serve perché quando poi comunque voglio applicare questo metodo su più elementi in caso che abbia tanti apply quello che possa andare a fare definire ad esempio una costante lavoro che un array con dentro questi due elementi e qua vado a passare lavoro quindi poi posso interagire con questo array e andare poi a fare tutta una serie di operazioni mentre con cold mandare per modificare manualmente quello che sono i singoli parametri che vado a passare in questo modo è sicuramente più mantenibile questa è esattamente la differenza tra call e apply sono lo stesso metodo solo che uno accetta come secondo parametro quello che è un re nel caso di apply e nel caso di col una lista di elementi mentre il primo per entrambi è sempre l'elemento verso il quale far puntare il riferimento di dis il nostro terzo metodo invece sarà il bind metodo sentirete tante volte nel corso della vostra carriera sicuramente che l'elemento è va in dato bondato bounded ci sono tanti modi di dirlo e adesso andiamo a spiegare questo che cosa voglio dire al momento sia play che col che fanno la stessa cosa così come bain avrà lo stesso obiettivo di quello che è a play e col quindi ricontestualizzare quello che effettivamente è il contesto di dis e così come col andrà a prendere una lista di elementi come secondo parametro come primo elemento accettere anche lui l'elemento verso quale ricontestualizzare il dis ma la differenza è che bind rispetto ad apply e col non va a chiamare istantaneamente la funzione ma va a creare una reference function che posso andare ad utilizzare successivamente quindi posso andare a dire che const lucia saluto sarà uguale a saluto dot bind prenderà come primo parametro lucia e dopodiché prenderà una lista di elementi per andare a poter utilizzare job e siti e se adesso io salvo non ho assolutamente un log in più ma devo andare e posso andare a utilizzare questa funzione in futuro quindi adesso ho invocato luci e saluto e o il log in più quindi ci serve a creare proprio questa funzione modo che si è una reference function e poi andarla ad utilizzare se volessi invocarla subito cosa che comunque non avrebbe senso ma magari può capitare semplicemente vado a chiamare la funzione direttamente infatti ottengo il blog però quello che è il suo scopo ovviamente non è questa roba che ho appena fatto ma è quello di andare a creare una reference function e questo può essere veramente molto utile quindi ripassando un attimo al volo abbiamo il metodo col che serve a invocare immediatamente una funzione ricontestualizzando quello che il contesto al quale fa riferimento di quindi darle indicazione a cosa di fare riferimento e poi accetta come secondo parametro una lista di elementi non molto attenti apply e identico con ma accetta come secondo parametro un array di elementi da andare a poter utilizzare il primo come indici posizionale a prenderà il primo parametro e il successivo accetterà poi andrà poi a essere siti mentre mind non serve a invocare immediatamente nell'istantaneo quella che la funzione ma creare una reference function da andare a utilizzare sempre ricontestualizzando quello che il contesto a cui fa riferimento il dis importante non è che se io faccio saluto dot call lucia questa roba quasi dopo richiamo saluto fa riferimento a lucia attenzione cioè è solo nella chiamata istantanea che sto andando a fare quello a cui fa riferimento in cui il contesto alizzo il disone che da adesso punta a luci ok in questa ultima lezione di questo capitolo dedicato agli oggetti andiamo a fare un po un esempio pratico per vedere effettivamente cosa ce ne facciamo di questi elementi che abbiamo visto fino ad adesso soprattutto con il caso del mind facciamo caso di avere il nostro bottone che come sempre nei di btn che andiamo mettere nel nostro file html avessimo noi un contatore quindi const counter che è semplicemente un oggetto che al suo interno ha il valore canta che è a zero e poi la funzione increment altro non fa che veramente scopi didattici con solo gare quello che è di fare dis dot count più più e poi console dot loggarci anche quello che è il valore di dis punto count andiamo a salvare e poi quello che andiamo normalmente a fare è aumentare il valore di valore di count al clic sul bottone quindi facciamo il tn dot ad event listener e al clic come sempre gli passiamo nostra reference function quindi facciamo contatore counter counter dot increment fino a qua sempre tutto giusto no quindi uno va a chiamare il contatore che ha il suo metodo di increment su cui vado poi a utilizzare il dis e aumentare il valore di modello da prima aumenta e come vedete ottengo invece come dice quello che è il bottone e come vado giustamente nana questo perché perché io ho il dis qua lo sto andando a chiamare non sul mio counter perché questa è una funzione ma fa riferimento sempre al elemento sul quale viene chiamato quindi in questo caso è il nostro bottone quindi qual è la mia soluzione la soluzione che devo assolutamente va in dare questo elemento per dirgli a cosa questo counter debba fare riferimento quindi ci copiamo questa incredibile riga andiamo a commentare quella sopra e andiamo a fare dot bind e diciamo di puntare al nostro contatore in questo modo abbiamo effettivamente creato una reference function che punta al nostro contatore ora andiamo a prendere come vedete riusciremo nel nostro incredibile obiettivo ma questa soluzione ha però un limite e che io in questo modo non posso andare assolutamente a rimuovere quello che le 20 minister che ho appena inserito quindi per diciamo risolvere questo problema e farlo nella maniera più corretta possibile quello che dovrei andare a fare e dire cost incremento uguale counter increment dot bind che dire che questa funzione è una reference function che andrò a chiamare successivamente e che punta al nostro contatore vuoliché vado a commentare questo elemento questo lo posso tenere vado a aumentare questo evento nel senso che tolgo questo questa funzione bindata e vado a passargli incremento e se volessi poi rimuovere quello che l'evento minister posso fare di ripassiamo l'evento dobbiamo ripassarli anche la funzione che vogliamo andare a rimuovere in questo caso è incrementi così ci permette di ottenere il miglior risultato possibile senza side effect di spettosi ovviamente non succede niente perché gli metto il mister e poi dopodiché lo tolgo se andassi a fare questa roba come vedete lui continua ad andare avanti e tutto quanto funziona avessi voluto utilizzare quello che era col avrei dovuto semplicemente fare e poi andavo a chiamare il mio metodo in questo modo quindi avere canter dot increment dot col a salvare premo ecco vedete ottengo esattamente lo stesso risultato